Fa parte di un progetto anche in collaborazione con il Ministero Falcone e Borsellino, quindi abbiamo organizzato due incontri sulla legalità. I ragazzi hanno lavorato nelle loro classi, hanno riflettuto su questo tema importante per la loro formazione, ma molto più importante di quello che possono leggere nei loro libri è la testimonianza che oggi Don Agnello ha portato ai nostri ragazzi, dicendoci che Gesù è più forte della mafia. Gesù è più forte della Camorra? Ovviamente sì, è una risposta lapariziana, non potrei che rispondere sì, perché Camorra va intesa anche come male, come ingiustizia, come oppressione. Usando una frase di Edmund Burke, filosofo, scrittore britannico, una frase che io mi porto dentro e la condivido anche con tanti studenti, perché il male trionfi, basta che gli uomini del bene non facciano niente. Oggi ha voluto trasferire ai nostri alunni questo messaggio, vivere nella legalità attraverso la cultura, attraverso l'incontro con la legalità per essere liberi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.